Ciao fotografo! In quanti modi ti posso imbrogliare? Molti, 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 molti modi. In questa playlist cominciamo a vederne qualche ad uno. Facciamo una breve carrellatina sulle situazioni più frequenti di inghippi contrattuali, cioè di situazioni in cui il cliente ti mette in una posizione che pare chiuderti nell'angolo. Attenzione, in realtà per alcune di queste situazioni esiste una soluzione, per altre situazioni no. Semplicemente ce la raccontiamo perché si sappia che questa cosa può succedere, che cos'è e come eventualmente muoversi, non necessariamente come uscirne perché a volte appunto non se ne esce. Cominciamo con un inghippo. La richiesta di preventivi gonfiati. Cosa significa? Questa è una cosa che capita quando i lavori in ballo sono importanti, che capita molto spesso tramite le agenzie o pubblicitarie o gli agenti di fotografie, che capita con i grossi nomi, che capita a livelli diversi con produzioni, con produzioni che possono essere importanti, importantine, carine. Ed è questo. Il capofile è il cliente che tiene in mano la faccenda, che può essere appunto un'agenzia o un cliente finale, chiede a diversi fornitori di fare un preventivo molto alto. Un preventivo per capirci che possa essere anche un paio di volte o tre volte quello che si dovrebbe chiedere. E lo chiede per i rapporti di conoscenza che ha praticamente a tutti i 4 o 5 fornitori che interpella. Perché fa questa cosa? Perché i preventivi verranno comparati fra loro e saranno tutti gonfiati. Il cliente sceglierà a rotazione, secondo altri suoi criteri, a chi lasciare il lavoro. Lavoro che viene concesso per una cifra più alta di quella che vale. Perché? Perché la persona a cui viene concesso il lavoro si sente poi obbligare a fare questo. Se vuoi questo lavoro e se lo vuoi a questo importo, ci restituisci in nero, in contanti, la metà o la parte di quota che eccede. Perché viene fatta questa cosa? Purtroppo è comprensibile. I preventivi sono diversi perché in questa maniera appaia essere trasparente la richiesta. E cioè sembri che la proposta è stata fatta in maniera ad avere più offerte sul mercato e quindi che i preventivi siano omogenei fra loro. La richiesta di restituire i soldi in nero serve per generare fondi in nero. Quando una grossa azienda vuole procurarsi dei fondi in nero fa così. Ti obbliga a fatturare una cifra importante. Può fare così, è uno dei modi. Ti obbliga a fatturare una cifra importante e ti obbliga a restituire in nero del denaro quando tutto quanto torna a quel punto contabilmente. Perché loro hanno fatto una richiesta di preventivi a più persone, più persone hanno fatto le loro offerte, le offerte sono più o meno omogenee. Si realizza il lavoro, si paga con i soldi dell'azienda, l'azienda paga una cifra che è doppia e la persona intasca o l'azienda per i suoi fondi neri intasca la metà o quello che è dell'importo che ha pagato. Non si vede da nessuna parte e tutti quanti sono contenti? No, è chiaramente illegale. Purtroppo come puoi immaginare qui la soluzione non c'è, il consiglio quando dovessi capire che ti stanno chiedendo e all'inizio non è chiaro il gioco un preventivo che sia importante, il consiglio è tirarti fuori da subito perché una volta che sei in mezzo è più difficile tirarti fuori. Quindi quando il cliente ti suggerisce di fare un preventivo alto perché così serve al cliente, drizza le orecchie perché potrebbe essere questo caso. Ok.